A Gnonese e Real Giulianova è una sfida che va oltre i tre punti. Per i molisani una prova d'appello per ridurre il divario proprio contro i giallorossi abruzzesi e riaprire un torneo avaro di soddisfazioni. Negli ospiti sono assenti difensori Ferrini, Tedone e Mariani. Al Civitelle splende un sole primaverile, dirige Guido Iacopetti di Pistoia. Nella prima frazione i locali in completo bianco attaccano da destra a sinistra. L'avvio è spigoloso, troppo alta, la posta in palio. Abercon per i Granata trova lo spiraglio centralmente. Il sinistro è però da rivedere al minuto numero 8. La partita la fanno i padroni di casa. Gli ospiti si abbassano a 5 in difesa per ancorare il reparto dinanzi al portiere Mora. 4-3-3 la scelta della panchina dell'Olimpia. A metà tempo bella trama tra Sosa che al limite dell'area scarica per Abercon. Il cuoio bacia il palo ma la posizione del numero 9 è leggermente più avanti della linea difensiva. I giuliesi di Mister Bitetto si vedono per la prima volta su calcio piazzato. Pallone a giro di Modic, la barriera è superata ma Caputo è sul pezzo, angolo. Barlafante entra in area scomposto l'intervento di Da Costa sul numero 10, rigore ineccepibile che Cesario trasforma dal dischetto degli 11 metri. Il Giulianova passa in vantaggio al 28esimo minuto. La reazione Granata è immediata dalla punizione defilata di Capitano Di Lollo. Stacca più alto di tutti Abercon, sfera incredibilmente fuori. Gli abruzzesi prendono più fiducia, Pecic e Di Lollo suonano la carica per l'Agnonese. All'ultimo giro di lancette del primo tempo, discesa di Alfarano sul binario sinistro, traversone interessante in area piccola ma la presa alta di Mora interrompe ogni velleità dei locali. Alla ripresa l'Agnonese si ripresenta con Barbato, un centrocampista, per Da Costa, un difensore. E la scossa arriva immediata, pallone vagante all'interno dei 16 metri, Abercon si coordina e al volo gonfia la rete per il pareggio. Olimpia 1, Giulianova 1 dopo circa 70 secondi. Azione fulminia dei Molisani, a destra raccoglie la sfera Vespa. Tipaldi tocca in angolo con il braccio, proteste, ma la terna è irremovibile. Sorpasso su penalty dei Granata con una stafilata forte e angolata. Mister Bitetto richiama Modice e inserisce Paudice. Sono adesso i giallorossi adriatici a dover fare la partita. I ritmi in campo salgono vertiginosamente. Nicolopulos e Tinti fanno muro su Cesario e Paudice. Proprio il numero 18 ospite si fa strada spallate fino dinanzi a Caputo, che gli sbarra la strada. Dormita dei padroni di casa, sempre Paudice, comodamente mette la palla alle spalle dell'esterefatto Caputo. Il Giulianova si riporta in parità 2 a 2 al minuto 25. La ripresa è vibrante e regala alla platea maggiori emozioni. Sosa sul filo del fuorigioco si presenta dinanzi a Mora, bravo a rimanere in piedi fino alla fine, ma è da matita blu l'errore dell'attaccante argentino. L'Olimpia si riversa in attacco. Amaia va ad infoltire il reparto offensivo, ma la mediana di cassa si scopre paurosamente. Paudice ne approfitta e castiga ancora Caputo. Nuovo sorpasso degli ospiti a 10 minuti dalla fine. Altra chance per Sosa di testa su assist di Alfarano. La punta cestina alto e il colpo di testa dinanzi al portiere Mora. Le squadre sono stremate, ma si giocano gli ultimi 4 minuti di recupero. Giulianova vicino alla quarta marcatura, si salva Caputo con l'aiuto del legno sull'incursione di Danna. 48esimo Mora esce a valanga, la porta è scoperta, sul destro all'angolo di Amaia. Ma a salvare il risultato per i giuliesi è il difensore Caso, che si immola quasi sulla linea. Al triplice fischio al Civitelle, l'Agnonese è costretta ancora ad ingoiare Amaro, sempre più nel baratro. Per gli abruzzesi una iniezione di punti e autostima.